Un bel gesto di solidarietà dei tifosi della curva nord dello stadio Iacovone, una raccolta di giocattoli all'Ipercop al quartiere Paolo VI di Taranto, doni da consegnare alle famiglie bisognose del territorio con la collaborazione dell'associazione ABFO e di Mr. Toys. Tantissimi pacchi raccolti donati dai cittadini che hanno voluto acquistare un regalo in più. All'iniziativa, che si concluderà il 23 dicembre, hanno partecipato anche i calciatori del Taranto Football Club, presenti con una delegazione e l'allenatore Capuano. È un'iniziativa, penso, nobile di chi l'ha creata, di chi ha avuto questo pensiero. È normale che, come dico sempre io, le feste è un momento particolare, perché c'è gente che le vive in un modo, gente magari sfortunata, che le vive in modo diverso. Siamo venuti qui col Mist per essere vicini a questi bambini e abbiamo voluto dare il nostro contributo. Noi cinque più grandi, ma veniamo a nome della squadra, tutti i ragazzi sono con noi, li informeremo appena torniamo di quello che abbiamo fatto, ma siamo tutti insieme oggi. È una bella iniziativa, come ce l'hanno posta l'attenzione, sinceramente ci è piaciuta, l'abbiamo perorata alla grande e devo dire che comunque abbiamo avuto una risposta di pubblico veramente gratificante. Quindi onore agli ultra, onore alla città di Taranto. È stata un'iniziativa splendida, realizzata dai ragazzi della Curva Nord, in favore dei bambini dell'Associazione Abufo e degli altri cittadini di Taranto, che potranno godere di tutti questi giocattoli raccolti in queste serate fredde davanti qui a Mr. Toys. Grazie.